Stanno arrivando alle vostre spalle le squadre partecipanti al campionato mondiale di volo e vi ringrazio così facciamo posto alle squadre, la prima che vedete animare sulla vostra sinistra è l'Australia, la Repubblica cieca, la Francia, la Germania, l'Ungheria, l'Israele, la nostra Italia, seguire il Giappone, e poi ancora la Russia, Sudafrica ancora, abbiamo la Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna, queste sono tutte le squadre che partecipano al 26S in campionato mondiale di volo acrobatico, è la prima volta che questi giochi, questi campionati del mondo avvengono in Italia, noi siamo ovviamente fieri di averli qui a Forigno, di avere questa compagine così nutrita di piloti, considerate che sono i migliori piloti del mondo, invito Dario Costa, che è il direttore della manifestazione, ecco qui gli arriva, alle mie spalle avete la giuria internazionale, che vi prego di applaudire, oltre le nostre personalità della nostra città. In Italia è una cosa spettacolare, dobbiamo essere orgogliosi, tutto questo è grazie anche all'aiuto di Foligno, soprattutto a Fornitalia, dall'idea nata da niente di Irene Pasino. Buongiorno a tutti, siamo molto orgogliosi e vogliamo ringraziare tutti i piloti aerobatici mondiali qui questa mattina, a questo meraviglioso campionato, la prima volta in Italia, la prima volta in Foligno. Voglio ringraziare Irene Pasino, che siamo la Federazione Aerotica Internazionale, abbiamo qua forse i personaggi al mondo dell'acrobazia più importanti. Spero che tutto venga apprezzato, è uno sport purtroppo abbastanza sconosciuto in Italia, questo sarà un motivo quindi di ulteriore orgoglio per la nostra nazione. E ora per ringraziare ancora di più la città di Foligno passo la parola al sindaco. Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti alla cerimonia di apertura del ventesessimo campionato mondiale di volo acrobatico. Buonasera e benvenuti a tutti questa cerimonia di ottenere 26te campioni del mondo aerobatico aerobatico. Rivolgo un cordiale saluto a tutta l'autorità, civili, militari e religiose presenti. I would like to extend a very warm welcome to all of the authorities here present this evening, the civil, military and religious groups. Saluto in particolare il Presidente della Provincia, Marco Venicio Guastichi. Grazie a tutti. And a special welcome to the President of the Provincia, Marco Venicio Guastichi. Saluto e ringrazio il Presidente dell'Aeroclub Italia, Senatore Giuseppe Leoni e il Direttore Generale Carlo Landi. And a welcome and a thanks also to the President of the Aeroclub of Italy, Senator Giuseppe Leoni and the Director General Carlo Landi. Un cordiale saluto al rappresentante della Federazione Aeronautica Internazionale, Alan Cassidi, ai giudici internazionali guidati da Graham Hill e al Direttore dell'Aeroporto di Fuligno, Perugia, Ancona, Pescara, Dottoressa Cynthia Cechare. And I would like to offer a very warm greeting also to the representatives of the International Aeronautic Federation. Alan Cassidi, the International Judges led by Graham Hill and the Director of the Airports of Foligno, Perugia, Ancona, Pescara, Silvia Cecharelli. Desidero fare un particolare ringraziamento all'Aeroclub di Foligno, al suo Presidente Dante Taddei, a tutti i suoi collaboratori per aver contribuito a organizzare questo spettacolare evento. Ringrazio l'Aeronautica Militare per la preziosa collaborazione e quanti in questi mesi si sono prodigati per la riuscita di questa straordinaria iniziativa. E in particolare permettetemi il mio Assessore Salvatore Stella. Grazie veramente per quanto hai dato per questa serata. In particolare saluto e ringraziamento al Vice-Sinma Romagnoli, al Presidente dell'Entagiostra Metelli e della nostra Fondazione Cassa dell'Isparmio Giannetti. Rivolgo un cordiale saluto ai principali protagonisti di questa manifestazione. in 56 piloti provenienti da tutto il mondo che scolteranno in questi giorni il nostro cielo con le loro straordinarie acrobazie che abbiamo già avuto modo di apprezzare oggi anche in queste ultime ore. Con loro saluto poi tutte le squadre, tutte le nazioni e tutti i continenti presenti. Buongiorno a Fulidio, del diritto e Fulidio. La nostra città, per la sua posizione geografica, per la sua storia, è tradizionalmente considerata il centro del mondo. Credo che questa manifestazione sia proprio all'emblema di questo nostro motto. È la prima volta che questo importante campionato si svolge in Italia e siamo davvero orgogliosi che sia proprio la nostra città ad ospitarlo. È la prima volta che questo importante campionato si svolge in Italia e ovviamente in Fulidio, quindi siamo incredibilmente orgogliosi e molto onore di offrire il nostro benvenuto a tutti. Per Fulidio, per l'Umbria, per l'Italia intera si tratta di un grande onore e di una straordinaria occasione di promozione. La presenza di tanti atleti e appassionati provenienti da tutti i continenti ci permette infatti di far conoscere a tutto il mondo il nostro ricco patrimonio ambientale, culturale e gastronomico creando nuove relazioni e nuove opportunità di sviluppo. Per Fulidio, per l'Umbria e per l'Umbria, siamo davanti con una delle grandi onore e un'attraordinaria occasione in cui possiamo promuovere noi. La presenza di questi piloti e i fans che seguono come dall'albero del mondo ci permette di uscire a capire e di uscire un po' di uscire e di uscire un po' di uscire, di uscire, di uscire, di uscire, di uscire, di uscire, di uscire un po' di uscire, di uscire un po' di uscire, di uscire un po' di uscire, e di uscire nuovi amici all'interno del mondo. Mi fa particolarmente piacere che questo importante campionato coincida poi con il centenario del nostro aeroporto, un'infrastruttura strategica per la nostra comunità che oggi si candida ad avere un ruolo sempre più significativo per la crescita economica, sociale e culturale del nostro territorio. Mi ha anche un piacere particolare di dire che questo importante campionismo coincide con il 100-year anniversario dell'aeroporto di Foligno, che è un'infrastruttura strategica per la nostra comunità e che ci permette di avere un più importante e significato per aumentare il nostro crescita economico, sociale e culturale, non solo in Foligno ma all'interno del territorio. L'auspicio è che da questa straordinaria esperienza mondiale possano nascere nuove opportunità per il nostro aeroporto, visti gli ingenti investimenti fatti per garantire la qualità di questa infrastruttura, che oggi rappresenta anche un valido supporto per le importanti e innovative imprese aeronatiche del nostro territorio, l'Umbria Cuscinetti, l'Aumadonti, l'NCM, grazie alle quali Foligno è parte fondamentale del distretto aerospaziale dell'Umbria e occupa un posto strategico nel panorama mondiale delle produzioni aeronatiche. E' anche un'esplice occasione di essere hostilizzare l'Aumadonti e che ci permette di avere più investimenti. Ci sono molte agenze e compagni che hanno garantito la qualità di prodotti in creare e crescita infrastruttura che oggi rappresenta un importante parte di l'economia e innovazione di questa regione. Abbiamo l'Umbria Cuscinetti, l'Umbria Cuscinetti, l'Umbria Cuscinetti, l'Umbria Cuscinetti e l'NCM che sono davvero una parte fondamentale delle compagnie che lavorano insieme con Foligno e l'Aeroporto dell'Umbria e ci aiuta a creare questa posizione strategica nel mondo con la produzione aeronatica. Il 26e campionato mondiale di volo acrobatico, iniziativa che coincide anche con i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta di una ricorrenza molto importante per il nostro paese che abbiamo celebrato e stiamo celebrando ricordando i principi su cui si fonda il nostro paese. Unità, libertà, pace, solidarietà. Tutti i valori che trovano espressione anche in questo straordinario evento sportivo che fa di Foligno il centro del mondo e dell'Italia la capitale mondiale del volo acrobatico. La nostra città, tradizionalmente aperta e accogliente, farà il massimo per rendere il più piacevole possibile questa vostra esperienza in Italia. Sono convinto che la vostra permanenza a Foligno sarà di vostro gradimento. La nostra città, che ha tradizionalmente stato molto aperta e calma e accogliente, offre la vostra esperienza migliore possibile durante la vostra stagione qui. E sono convinto che la vostra stagione sarà un grande piacere per voi. Good luck, in bocca al lupo a tutte le squadre. Ok, adesso passiamo la parola, un breve cenno, a Garnhill. Buonasera. Is that ok? E wow, bella centro del mondo. Giusto, eh? Parla molto bene. Molto bene? Molto bene. E bella cittadina del Foligno, bella Foligno, bella aeroporto. Mille grazie. Detto da gran mire, se permettevi, for your... Italian is finished. For your warm welcome for me, and I have 25 judges, it's like herding cats. But you have made us very welcome, so I say mille grazie Foligno. Thank you. Grazie, grazie ancora. Grazie. La parola... Jane Cassidy, il rappresentante, il rappresentanza della CIVA, per la presidenza CIVA. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera a tutti. Since I was a very small boy, I've been seeking for the center of the world. And I'm very pleased now to have found her. And I'm very pleased now to have found her. So, on behalf of the International Aerobatic Commission, I wish to say thank you very much, grazie mille, to the mayor of Foligno, to the people of Foligno, to the president here of the organizing committee. I would like to thank the mayor and the mayor of Foligno. I know from personal experience the amount of work that these people have been making for the last twelve months, and they have my gratitude. Lui è consapevole del tutto il lavoro che è stato svolto in questo periodo per rendere vivo questo evento. Perciò è molto... è così contento e vuole ringraziare a tutti. a tutti. So, just to spare any more delay for the pilots who want to go for dinner, on behalf of the International Aeronautical Federation, I'm pleased to declare the 26th World Aerobatic Championships open. Applaus Per un pari scrittori e piloti che stanno aspettando la cena, voglio dichiarare questo evento aperto, il 26... il 26th... il 26th... campionato mondiale Un'acromatico. Applaus 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 Grazie. Sì, sì, adesso ci accomodiamo tutti a Palazzo Cagliotti, presso la taverna... Piazza Cagliotti, a la taverna... a Maniti, scusate. Un attimo, se potete un attimino fare un po' di spazio, se potete allargare un pochino. Piazza Cagliotti, a la taverna... a Maniti, scusate. Piazza Cagliotti, a la terra piazza... Piazza Cagliotti, a la terra piazza... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.